In realtà poi lo scontro è sempre attivo, lo è perché ovviamente l'opposizione non manca di sottolineare tante cose. Nel caso di Maurizio Lupi, qual è stata la cosa che davvero è emersa e che non dà il valore della situazione? Siamo ai soliti processi mediatico-giudiziari, il Maurizio Lupi non è indagato, si è dimesso, ha fatto bene una scelta di dignità che io condivido anche perché ha mostrato una scelta di moralità rispetto alla doppia morale del Partito Democratico. La cosa che delude di più è un Renzi che non è più Renzi. Renzi sindaco faceva il tweet e chiedeva alla cancelliere di dimettersi, Renzi premier sta zitto sul caso Lupi e affida le dimissioni di Lupi al virgolettato di Repubblica. Io credo che fosse un fuoriclasse perché aveva il coraggio delle idee, anche se io non sempre le ho condivise. Oggi purtroppo è vittima di se stesso o non è all'altezza di se stesso, ma soprattutto nei nostri confronti non ha avuto rispetto dell'alleato e ha usato doppio peso e doppia misura classico della sinistra, garantista con i suoi, giustizialista con gli altri. Cosa può significare quel silenzio? Significa che Renzi utilizza gli alleati a convenienza, cosa che io non sono disposta più ad accettare. È per questo che ho chiesto al mio partito un chiarimento, chiedo un'assemblea straordinaria per capire nel CD dove sta andando, qual è la carta d'identità. Siamo ancora di centrodestra o siamo subalterni a Renzi? E quindi una costola di questo Premier e di questo Presidente del Partito Democratico. Credo che noi oggi è arrivato il momento del confronto e di dirci che cosa vogliamo essere da grandi. Ci potrebbe essere qualche cambio di casacca per prendere il posto di Maurizio Lupi? Guardi, io penso che i partiti si fondano sulle idee, non sulle poltrone. E questo gioco di poltrone, il posto di Lupi, il rafforzamento, obiettivamente la donna giovane, anche del Sud, mi fa venire i brividi perché penso che il Paese non si cambi rivestendo il ruolo di ministro, di capogruppo, di sottosegretario, ma si faccia con la forza delle idee e anche con il coraggio. Ecco, io penso che noi, quando siamo entrati in questo governo, dovevamo essere come l'allora Lega di Berlusconi che pur essendo nostra alleata avevano una forte identità e non scendevano i sondaggi. Noi rischiamo di restare schiacciati e quindi occorre una seria riflessione nel nostro rapporto con Renzi.